Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono Oliver di Parteciparte. Siamo una compagnia di teatro che mette in scena i conflitti, in particolare quelli dove c'è un disequilibrio di potere, ossia gli abusi, le violenze e le discriminazioni. Ci occupiamo di mettere in scena questi, ma anche di invitare il pubblico a provare delle soluzioni. Non andiamo a dire alla gente quali sono le soluzioni ai problemi, noi spesso anzi chiediamo qual è il problema, raccogliamo idee e scene nelle scuole dappertutto e poi creiamo dei spettacoli dove sarà il pubblico a venire a provare delle soluzioni, delle strategie per cambiare. Cambiare in particolare una cultura maschile, spesso tossica, dannosa, che ci intrappola in relazioni problematiche, che spesso finiscono male, che non volano insomma, e quindi noi cerchiamo di usare giochi, teatro, qualunque forma piacevole, per affrontare collettivamente questi problemi e cercare di affrontarli, risolverli o smantellarli insieme. Il 25 novembre lavoreremo con delle scuole di Bologna, con una scuola in particolare, con tre classi e con ogni classe metteremo in scena tre piccole problematiche fra uomini e donne.